I temi che andremo ad affrontare in questa presentazione sono l'inquadramento generale della norma, quindi da dove trae origine, le formalità e addempimenti necessarie, le valutazioni dei beni materiali e poi passerò la parola al dottor Paolo Bottari per un'analisi che andrà a vedere quali sono gli impatti a bilancio di questo tipo di valutazioni, prenderà poi spunto da questo per fare un approfondimento su un tema molto interessante che è quello della valutazione dei beni immateriali e poi andremo a analizzare quello che sono gli impatti sui bilanci di questo tipo di norma.